Un tavolo di tecnici per discutere e approntare il cronoprogramma dei lavori per il dragaggio del porto di Pescara. Luciano D'Alfonso spiega la determinazione a spendere il minor tempo possibile per giungere all'avvio delle operazioni e annuncia un esito con tutti i punti ufficializzati nel giro di 40 minuti. Questo il tempo a disposizione per la riunione. Intanto una distinta temporale sul dragaggio immediato e il dragaggio di medio tempo. Per l'uno e l'altro degli interventi noi stiamo rimettendo in efficienza la vasca di colmata di Pescara e la potente vasca di colmata di Ortona. Noi dobbiamo portare a termine anche la procedura del piano regolatore portuale di Pescara per il quale il Consiglio Superiore ci ha chiesto un ulteriore elaborato che abbiamo già affidato. Certo mi preme rilevare come questa volta c'è un timing preciso che tutti gli uffici stanno rispettando. Di qui a 40 minuti siamo nella condizione di dire anche quando cominciano i lavori del primo intervento incombente di dragaggio. Ragionare su vocazioni di ogni porto senza attendersi risvolti non raggiungibili. Il primo punto è quello del piano regolatore portuale. A Pescara si dovrà procedere a modifiche strutturali che non cambieranno di fatto quella che è una vocazione ben precisa. Noi abbiamo tre portualità più una in Abruzzo. La portualità a vocazione industriale è quella di Vasto, poi c'è una portualità di potenza commerciale Ortona, una portualità per la pesca e per il turismo a Pescara. Dentro queste caratteristiche noi dobbiamo insediare anche un'autorità portuale collaborando o con le marche o con Civita Vecchia. Quello che è certo è che i nostri porti li dobbiamo avere non come dei quadri ma come delle infrastrutture funzionanti perché ci si fa la manutenzione. Infine parlando di infrastrutture, proprio ieri il governatore d'Abruzzo è riuscito a portare in casa il numero uno di Ryanair. L'ambizione era quella di vedere l'aeroporto d'Abruzzo diventare snodo di rotte maggiori in numero e destinazioni. Al termine dell'incontro invece la notizia è stata quella della cancellazione di tre delle dieci tratte attive. Un risultato che non sembra spaventare Luciano D'Alfonso. Mr. Ryan è un imprenditore che naturalmente pensa anche ai suoi contratti come è giusto che sia. Noi dobbiamo avere sia dei low cost sia dei vettori che sono capaci di mantenersi con la collocazione dei propri servizi. Su questo stiamo lavorando per naturalizzare l'aeroporto di Pescara come un aeroporto specializzato verso l'altra parte dell'Europa, dell'Adriatico, verso i Balcani. Su questo stiamo lavorando anche con il Ministero delle Infrastrutture specificando che cos'è Pescara sia rispetto a Ancona, sia rispetto ai Balcani e soprattutto rispetto anche a Roma.